andrea pollutri il big match contro il san salvo si avvicina nell'ultimo mese si è stato limitato da un problema muscolare che ti ha tenuto fuori dal campo stai recuperando sarai del match domenica ma allora non so se giocherò questa partita è molto difficile però stiamo lavorando stiamo lavorando bene con il fisioterapista luca del casale speriamo speriamo di esserci perché è una partita molto ma molto importante soprattutto per me perché sono sono nato cresciuto a san salvo nel settore giovanile quindi molto molto sentita da parte mia ma anche da parte del gruppo perché abbiamo un obiettivo abbastanza importante in questo momento che cosa che non ci aspettavamo forse inizio anno ma con il passare del tempo abbiamo dall'inizio diciamo abbiamo iniziato a capire quello che stavamo creando e che abbiamo fatto fino adesso diciamo che il lanciano è scappato a piotto vincendo anche il recupero di mercoledì voi però siete sempre secondi mantenete dei bei vantaggi sulla terza sulla quinta vi accontenterete di un playoff e stromettendo solo la quinta o volete cancellarlo definitivamente fare direttamente la finalissima no noi puntiamo ad allungare sulla terza cioè questo è il nostro obiettivo è normale dopo però le partite comunque non possiamo non le possiamo prevedere quindi come viene diciamo però il nostro obiettivo è fare più punti possibile per allungare sulla sulla terza hai detto prima che per te sarà una partita speciale san salvese doc quest'anno all'andata è giocato per la prima volta contro la squadra della tua città che emozioni hai provato che emozioni proverai domenica se riuscirai a scendere in campo ma un'emozione è abbastanza strana perché appunto non ci ho mai giocato contro quindi diciamo è stata una bellissima emozione poi soprattutto con persone che conosci con cui condiviso tanto anche degli anni precedenti speriamo appunto di far bene e di rivivere queste emozioni perché poi è stata una partita abbastanza dura e dove stavamo vincendo hanno pareggiato speriamo che vada bene dai ci saranno in palio punti pesantissimi tra i tuoi compagni chi potrebbe essere l'uomo decisivo va bene gli uomini decisivi di questa squadra si sanno sono Michele Cesario e Giuseppe Letto ma comunque anche dietro di loro c'è ci sono grandi giocatori che stanno facendo davvero bene però uno dei due potrebbe essere l'uomo del match che stanno facendo tutta la bullets